Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla 2 del Mediterraneo fino al 30 novembre per lavori di manutenzione ordinaria, nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6, è istituito il restringimento di carreggiata tra le uscite Salerno Centro e Ponte Cagnano in entrambe le direzioni e in tratti saltuari. Il cantiere è sospeso i giorni festivi e prefestivi. Sulla 3 Napoli-Salerno fino a cessate esigenze per lavori di realizzazione della nuova rampa d'uscita dello svincolo Pompei-Ovest e attiva la riduzione di carreggiata nel tratto compreso tra le uscite Torri Annunziata Sud e Pompei-Ovest in direzione Salerno. Sul raccordo Salerno-Vebino fino al 30 novembre, nella fascia oraria 7.30-17, esclusi giorni festivi e prefestivi, per lavori attiva la riduzione di carreggiata nel tratto compreso tra l'allacciamento con la 30 Caserta-Salerno e l'innesto con la strada statale 7 bis di terra di lavoro in entrambe le direzioni in tratti saltuari. Sulla strada statale 7 Quater-Domiziana fino a giovedì 30 novembre nella fascia oraria 8-16.30, esclusi giorni festivi e prefestivi, si procede a carreggiata ridotta nel tratto compreso tra Castelvolturno e l'innesto con la tangenziale di Napoli in entrambe le direzioni in tratti saltuari. Sulla tangenziale di Salerno, dalle 22 di stasera alle 6 di domani, chiude il tratto tra le uscite Zona Industriale e Mariconda verso Fratte. Per la redazione Muoversi in Campania, Rossello Altamura Servizio a cura di Acamir e Regione Campania per la redazione Muoversi in Campania per la redazione Muoversi in Campania Lo scolastico interiore di Salerno Sulla ingin'a